Grazie per l'opportunità di organizzare questo piccolo ciclo di manifestazioni che ci sono accorte a partire da venerdì scorso, poi questo venerdì e venerdì prossimo e che sono collegate in qualche modo alla fase conclusiva della mostra del Rex, la mostra del Rex chiuderà il 14 e quindi l'ultima manifestazione nostra è l'11. Abbiamo trattato il tema dei comandanti con delle testimonianze molto belle e con questo legame anche familiare, alcuni dei relatori della settimana scorsa, i discendenti dei comandanti, i comandanti perché poi noi ricordiamo sempre il Rex insieme al Conte di Savoia, per quelli di voi che non hanno ascoltato la presentazione il venerdì scorso, queste due navi che qualcuno diceva navi gemelle e poi in realtà gemelle non lo erano perché erano diverse come navi ed erano diversi come alcuni armatori perché poi erano armate l'una da Sabauto, l'altra dalla navigazione generale italiana che poi è diventato l'Italia di navigazione, che erano due compagnie d'armamento concorrenti a quei tempi, che poi sarebbero confluiti nella grande Italia di navigazione, però a quel tempo erano concorrenti le navi, erano concorrenti, le navi gareggiavano e gareggiavano proprio per poter essere la nave che avrebbe combattuto per la conquista del mastro azzurro. Non era chiaro all'inizio quale delle due ore ha fatto, tant'è vero che, come ci hanno raccontato i comandati la volta scorsa, il conte di Savoia aveva tentato un po' prima del Rex e poi una tempesta l'ha costretto a volentare, quindi non è riuscito a conquistarla. Ecco, tutta questa vicenda molto avvicente, oggi prosegue con questo parallelismo mare-celo che è interessante. A quei tempi, nel progetto generale della propaganda di quell'epoca, queste manifestazioni, queste grandi conquiste, sia marittime che aeree, venivano viste come due aspetti di quello che doveva essere una supremazia nazionale che poi purtroppo la guerra ha dimostrato che non c'era. Però la propaganda era puntata a mettere in risalto queste cose. Come mai la trasvolata atlantica è legata a Rex? Perché come vedrete in qualche immagine, anzi io vorrei proprio dedicarmi solo a questo aspetto, vorrei il legame tra Rex e trasvolata atlantica, perché il legame c'è che è brutissimo. La prossima è così. Ecco, questo è il programma di questa sera, tra l'altro ho l'occasione per salutare il colonnello Nurgis dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, che è tratto al capo dell'ufficio storico dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, quindi è depositario di tutta la parte storica dell'Aeronautica. Poi abbiamo Matteo Focchessati, noto a Genova, un esperto del periodo dell'arte del Novecento, quindi è arrivato al Centro Studi, a Walsoniana, questa bella iniziativa che Mickey Walson ha regalato alla nostra città. E poi ci sono Fabio Caffarena e Carlo Stacini, che sono i due autori di un volume che ha rappresentato questa sera e che è, tra l'altro, è sottolineato in vendita all'ingresso della sala. E questo volume che tratta appunto, che si chiama Chi vola vale, perché questo era uno degli slogan durante il periodo, naturalmente è rappresentato con dei bellissimi manifesti di cui forse Focchessati ci dirà poi qualcosa, perché è una delle caratteristiche di questa arte bellissima che ha caratterizzato poi gli anni 20 e 30 della nostra storia. Quindi gli autori di questo volume che viene presentato, che poi in chiusura il colonnello Noces ci regalerà queste bellissime ricostruzioni che l'Aeronautica ha fatto, sono ricostruzioni simulate ma virtuali, in cui è stato in pratica ricostruito quello che era l'idroscalo di Orbetello, cioè gli aerei che erano idrovolanti sono partiti lì e Orbetello era veramente un'opera di carattere umanissimo portuale di estremità, cioè c'è una gru, credo che a quei tempi, forse nel Porto di Genova e quella di quelle dimensioni non c'è regaliano, perché doveva, non so, levare le aree a metterle in mezzo di mare. Quindi vedremo tutte queste cose. Andiamo un attimo avanti, molto rapidamente questo è Lex, ecco io volevo solo citare Fabio Testi che è presente, Fabio Testi è figlio del direttore di macchina e primo violino per Rex e Fabio Testi sarà ancora più protagonista della prossima conferenza per cui poi diremo. Però ci ha aiutato perché è depositario in un archivio personale molto importante.